vediamo che cos'è un ripetitore e come si usa innanzitutto la nostra sessione è vuota per cui andiamo a creare un nuovo livello forma che ovviamente è vuoto per cui al suo interno andiamo subito a inserire un rettangolo che in questo caso è un quadrato ma va benissimo ovviamente dobbiamo inserire un riempimento di default rosso non so se ve l'ho già detto ma a me questo rosso è il rettangolo per cui cambiamolo subito molto bene a questo punto possiamo andare a inserire sul nostro contenuto un ripetitore il ripetitore si collocherà sotto ovviamente e ha le sue belle opzioni quindi abbiamo un numero di copie uno scostamento e una distanza che in questo momento è di 100 pixel la vado ad aumentare perché sennò non si capisce ecco qua facciamo 120 a questo punto noi abbiamo tre copie per cui sono tre totali diciamo gli 9 ovviamente 9 a partire dall'oggetto iniziale che è collocato nel centro della sessione lo scostamento serve proprio a questo se io gli do un meno 4 ne avremo 4 prima e 4 dopo e quello centrale rimane questo questo perché ho impostato su 9 che è dispari altrimenti sarebbero stati spasati ora una cosa interessante che si può fare è animare il numero di copie per cui io posso per esempio posizionarmi a 2 secondi e mettergli un keyframe con 9 copie posso posizionarmi poi a 0 secondi e dirgli 0 copie in questo modo avremo questo effetto molto simpatico a questo punto quello che potremmo anche fare è applicare un secondo ripetitore per cui andiamo ad aggiungerne un secondo che ovviamente si colloca sotto andiamo a vedere qui cosa succede ha aggiunto delle cose che però noi non vogliamo esattamente così come le ha aggiunte lui per cui andiamo a dirgli posizione sull'asse orizzontale 0 posizione sull'asse verticale invece avevamo fatto 120 vero? una cosa del genere ok a questo punto noi potremmo andare a prendere il nostro primo oggetto quindi era il tracciato rettangolo e potremmo portarlo più su e a questo punto sul nostro secondo ripetitore potremmo aumentare il numero delle copie e questo è l'effetto che abbiamo ottenuto un'altra cosa che è possibile fare ma sono solo esempi ovviamente ricominciamo da capo creiamo un livello forma lo riempiamo con un rettangolo a cui diamo ovviamente un riempimento a cui ovviamente io cambio il colore a questo punto però io non voglio un quadrato bensì voglio un rettangolino ok a questo punto gli andiamo a mettere un ripetitore ripetitore ovviamente se la gioca sempre a partire da 3 ma io invece gli dico 8 andiamo sul numero pari questa volta e gli dico però che non voglio animare la posizione bensì voglio animare la rotazione e qui gli diamo una piccola equazione diciamo 360 diviso 8 ovvero 360 gradi diviso il numero totale di ripetizioni a questo punto se animiamo la posizione in questo modo avremo un effetto di composizione se andiamo invece ad animare la posizione del nostro rettangolo avremo un altro tipo di effetto ovvero questo che ovviamente è possibile animare completamente